Non è solo che il KUSW ha un suo ruolo durante ora di Mardugà nel momento che hanno avuto una detenzione, tanto in Rwallama come anche in Rwattera. La polizia ha un ruolo cruciale. Qui è un ruolo più importante, la polizia è uniformata, e la polizia è un'unità, e la polizia è un'unità, e la polizia è un'unità, una polizia, una curva di lodo, una uova, una uova e una curva di 30, tra di essere in un modo di 30 o di una forma clandestina. Lì c'è la clai che c'è il vocello policiale che ci ha avuto il ruolo di polizia nel intero del processo qui. che abbiamo fatto un'unico hollandese Mance Smokal e dopo il nostro raffa e l'investigazione che si è fatto, il capitano sarà per due o tre anni per un castigo di prisione per il Saki il signale è stato molto che la gente non è stata troppo e che ha un controllo extenso e non solo per questo atto ma anche un collega di chi è stato presente con il dono del Saki C'è qualcosa che non è legale che avrò a bordo, avrò la gente qui, ovviamente, non è pura di renta? C'è ora che il risultato della investigazione non è arrivato con la gente, il capitale ha detto che è solo per transportare la gente per Guaruba. C'è un motivo che è pagato per Guaruba, e c'è un motivo per la Guaruba, o che è interrogana? C'è un motivo per la situazione tenso in Venezuela, e la situazione economica in Venezuela, non è stato con il cuore policiale e con il cuore, e in differenze instanze, non è stato per il controllo extenso, che non è stato attaccato per la Guaruba. C'è un'altra parola dell'elito, la Cleybo, di cuore policiale, che ha detto un po' che è un'altra parola di detenzione, che è un'altra parola di Mardugà, e la polizia hanno fatto attenzione in diverse unità, tanto dei caldo helicóptero e altre unità, di ribattera, caccio, etc., che hanno fatto per la gara di tutto, con il cuore del interrobo, con il voto di un'informa clandestino. Il nostro canale è stato con l'alcesità della nostra spettazione, con la notizia della Telenotitica.